Buongiorno, mi sono svegliato a tre minuti e mi è entrato qualcosa negli occhi, quindi in realtà l'unica grande guida che vorrei trovare oggi è qualcosa su come riuscire a ripristinare la vista, sono diventato CEO, quindi spero che il telefono sia lì davanti a me, però cose trovate per davvero. Markup, FAQ page in SERP e quindi in generale una guida che ci fa un pochino riflettere su tutti i markup che ci sono, dalla pagina all'articolo alle FAQ, quante cose possiamo dire in maniera strutturata a Google affinché lui le usi al meglio e quindi per noi sia vantaggioso. Lo trovo interessante e da leggere. Vendere senza e-commerce, anche qui una guida che in estrema sintesi ci fa notare come per alcuni piccoli business molto piccoli o casi insomma un po' particolari può essere utile non stare a implementare un e-commerce ma girarci un po' intorno, quindi ci sono ad esempio il link diretto per generare la vendita attraverso Paypal eccetera eccetera, però insomma una serie di trucchetti, ma nemmeno trucchetti la parola sbagliata, di strade alternative per appunto piccoli business può essere utile. Allora Bing in SERP, tornando appunto a markup, mette le risposte sì o no secche. Domani piove? No, ora ho fatto la domanda sbagliata, però in alcuni casi appunto propone questo tipo di risultato. È una cosa utile, paradossalmente di solito Bing è un po' indietro rispetto a Google, questa volta ha fatto qualche cosa che perlomeno diverge, non so se è meglio o peggio, ma sicuramente ha preso una posizione. E lo trovo bellino. Altra cosa che consiglio di fare è dare un'occhiatina che i propri brand siano protetti su Bing, nel senso, è vero che Bing muove piccoli volumi, ma se lì c'è qualcuno che mi sta presidiando il brand, me lo frega tutto. Quindi insomma, valutiamolo. EasyJet ha subito un attacco hacker, insomma, e si è fatta prendere i dati di 9 milioni di utenti. Ora, succede, ma quello che davvero mi fa pensare ogni volta è, noi diamo i nostri dati a un sacco di aziende, che se poi toppano qualche cosa per mille motivi, sti cacchi, cioè davvero ce n'è tanta, la posta in ballo è grossa. 165 mila posizionamenti da escludere per le campagne Google Ads. Una bella guida, cioè una bella guida, un bel elenco, molto utile secondo me, per chi ci macina con i display può fare veramente comodo. Google Suggest, quindi come sfruttare al meglio i suggerimenti di Google digitandoli direttamente sulla barra di ricerca. Allora, appunto, è una piccola guida, una mini riflessione, sono due, anzi, una ci parla dell'utilizzo dell'asterisco, l'ho trovata molto carina. Spesso non ci si pensa, ma effettivamente l'asterisco è una cosa, la ganza, che permette di trovare un po' di ideuzze sulle parole chiave. È un po' il sistema che usava a coda lunga, quel sistema di cui parlammo qualche giorno fa. Poi, marketing trasformato, anche questa è una specie di guida che ci parla un po' del marketing di domani. Perché mi è piaciuta? Perché quando, tipo, alcuni giorni fa è venuta fuori la storia del... Arriva Facebook, con lo shopping direttamente su Facebook, con lo shopping organico di Google, l'e-commerce non serve più. Beh, secondo me l'errore di fondo era pensare che fare e-commerce fosse avere un sito e-commerce. È molto più ampia la faccenda, come qualsiasi ambito, no? Ma anche se vendiamo lì, qualsiasi cosa uno debba veicolare attraverso internet, non è un sito. È molto di più, è una cosa che mette in campo un sacco di fattori. Se vedi solo quella fettina lì, in qualche maniera ti scavi la fossa da solo. Quindi, secondo me, questa guida qui comunque ci aiuta ad allargare un po' i nostri orizzonti. L'attribuzione di Facebook. Continuo a provarla, finalmente i primi risultati. Non ci sto ancora capendo una beata, però è un po' nostica da implementare soprattutto quella parte display. Però è ganza, eh? Cavolo, è veramente ganza. C'è un sacco di informazioni molto curiose. Poi, YouTube Select. Praticamente, ormai YouTube un bordello di gente lo guarda la televisione, la Smart TV, se ho capito bene, eh, sempre questa premessa. Praticamente permetteranno di dire che io voglio che i miei annunci girino soltanto, appunto, se visti da televisioni. Quindi fare degli annunci personalizzati per quel canale, su quei target. Molto, molto curiosa. I bimbi di oggi, la televisione per loro spesso è YouTube. Anche perché è grande. Infine, adotta una mucca. Adotta una mucca, secondo me, è un'iniziativa veramente brillante. Quante... Cioè, alla fine, niente di incredibile. Però, delle volte ti dice, ma ora come si fa? Come mi reinventa? E via dicendo. L'idea. Quando, ragazzi, c'è un'idea ganza, questi, probabilmente, una fattoria che ora passava un momento difficile, via dicendo, adotti una mucca, ti arriva il tuo formaggine a casa, in base a quello che lei produce, c'hai un canone da pagare, c'hai una mucchina tutta tua. Secondo me l'idea è molto divertente. Non so se venderanno tante mucche, ma ne fanno parlare un sacco di gente. È già un ottimo risultato. Sicuramente c'hanno una bellissima link building, la peggiore delle pozzi. Detto questo, buona giornata. Torno a provare a sfidarmi questa roba dagli occhi. Grazie. Ciao.